Dopo circa 30 anni torniamo alla città di Chiti per questa tre giorni intensa, piena di incontri culturali, di conferenze, talk show, di spettacoli, iniziative sportive e artistiche. C'è una mostra di fotografia dedicata al volto del lavoro e poi per quanto riguarda gli spettacoli abbiamo una serata dedicata a Renzo Arbore, quindi a tutto il repertorio di Renzo Arbore ed un'altra dedicata ai cori folcloristici abruzzesi e anche da fuori regione, anzi da fuori nazione. Abbiamo attività sportive come gara della ruzzola e come il funcional training. Gli aspetti più interessanti sono quelli legati alla convegnistica, abbiamo un convegno Nuove strade per un nuovo mondo al quale parteciperà il Presidente nazionale delle Acre, il sottosegretario di Stato alla giustizia la senatrice Federica Chiavarori e padre Emiliano Anterucci che è un cappuccino da poco insegnato dal Santo Padre del ruolo del missionario della misericordia. Il giorno successivo abbiamo un altro convegno, progettare il sociale e vivere la comunità, un incontro dedicato al nuovo modo di offrire la solidarietà e quali sono le istruzioni per l'uso per poterlo fare nel migliore dei modi. Il messaggio che vogliamo lanciare intanto è questo, c'è un mondo che sta cambiando, c'è un mondo che ci modifica la vita giorno per giorno anche se a volte non ce l'accorgiamo. E allora come governare questo cambiamento? Cioè da protagonisti oppure subendolo semplicemente?